Anastasio X Factor 2018 Il momento che mai avremmo pensato di vederlo ai live di XF12 e invece nella vita è bello sbagliarsi? Almeno in questo caso. Anastasio è uno dei concorrenti di X Factor 2018 arrivato ai live insieme a Mara Maiotti, il suo giudice per la categoria Underwomen. Chi è il rapper Marco Anastasio? Quanti anni ha e cosa sappiamo della sua carriera e vita privata? Testo la fine del mondo, inedito di Anastasio X Factor 2018 18 aspetta, non sono pronto ancora, guarda ho ancora l'etichetta, non so andare in bicicletta o fare i 100 all'ora mai corso una maratona, superato ostacoli. Non ho mai visto il Napoli di Maradona o le licenze scadute da un pezzocchella poetica da rinnovare o levare di mezzo a batto la clessidra orizzontale per fermare il tempo a batto che smettiate di soffiare per cambiare il vento e il freddo che avanza, l'anima sintetica. L'estetica dell'ansia e se oggi potessi cambiare il mondo lo farei domani, punto non mi rompete il cazzo con sta fretta di decidersi. Lasciatemi, non fatemi alzare dal letto scendetemi di dosso con sta fretta di decidersi voi, voi non fatemi alzare dal letto punto ma voi davvero volete le cose semplici? Inflazionarvi le emozioni con i pezzi sempre identici? Beh punto 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 io sono stanco delle cose normali, io non ho tempo per le cose normali punto e di certo non mi alzo dal letto per cose normali tu non mi credi? Io vengo a romperti i pensieri, ti toglierò l'ossigeno e la terra sotto i piedi punto io mando giù l'arsenico, non lascio manco più le goccioline xanax come noccioline e pare da rimpicciolire punto e sogno un mondo che finisca degnamente che esploda, non che si spenga lentamente punto io sogno il led e i riflettori alla cappella assistina sogno un impianto con bassi pazzeschi. Una folla che salta all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare, gli affreschi e il giudizio universale sgretolarsi e cadere incoriandoli sopra una folla danzante di vandali punto li vedo a rallenti, miliardi di vite mentre guido il meteorite sto puntandoli punto io sogno il led e i riflettori alla cappella assistina, rit virgola sopra una folla danzante di vandali punto li vedo a rallenti, miliardi di vite mentre guido il meteorite sto puntandoli. Se volete sapere tutto sulle ultime notizie di X Factor 2018, i testi degli inediti dei concorrenti e i gossip? Allora cliccate qui punto chi è Anastasio, il rapper i live on gli under uomini di Mara Maionchi Anastasio è molto giovane, ha 21 anni e viene da meta di sorrento. Oggi è i live di X Factor 2018 nella categoria under uomini con Mara Maionchi come giudice. La sua infanzia si svolge in un tranquillo paesino, piccolo e senza particolare influenze musicali così Anastasio riesce a crearsi un linguaggio musicale tutto su a metà tra il cantautore e il rapper. La sua vena autorale l'abbiamo vista sia alle audizioni che ai bootcamp e gli home visit di X Factor 2018. Punto canzoni Anastasio X Factor 2018 e vita privata Ogni canzone di Anastasio sembra creare delle immagini vividissime nella mente di chi ascolta. Posso essere un po' megalomane, dichiara il concorrente di X Factor 2018, e sono anche un po' pigro. A livello artistico il mio pregio forse è la capacità di trasmettere immagini. Il rapper ha sempre fatto musica scrivevo, facevo melodie, la mia prima impronta è stato il rap improvvisato, poi ho registrato un epa materiale. Sul palco sono fin troppo calmo, fino alla noia alle volte, mi gaso quando il pubblico è dalla mia. Anastasio racconta poi anche delle sue preferenze musicali non mi piacciono quelli standardizzati e amo caparezza, sono curioso comunque. Per lui il fattore X di X Factor è l'unicità il mio fattore X è il fatto che quello che scrivo, lo scrivo solo io.